Ciao ragazzi e benvenuti su Gastroep Drums. Questa è una giornata speciale, questo è un video speciale perché oggi è uscito Vibely. Nelle scorse settimane ma soprattutto negli ultimi giorni vi ho già spoilerato un bel po' di cose di che cos'è questo progetto perché è già uscito il profilo Instagram di Vibely che ovviamente vi lascerò qui in descrizione. Lì sopra sono già state spiegate un bel po' di cose, ci sono stati un po' di spoiler, ci sono state un po' di post che hanno fatto capire un po' di cose ma io oggi sono qui apposta per spiegarvi tutto bene nel dettaglio di cosa si tratta perché questa è una piattaforma che vi permetterà di migliorare con la batteria in un modo mai visto prima. Che cos'è Vibely? Vibely è un nuovo metodo di insegnamento quindi ovviamente un nuovo metodo anche di apprendimento che non è però il solito corso che comincia pagina 1 finisce la pagina 200 in cui siete focalizzati su un solo argomento magari su un solo genere musicale quindi avete un percorso già fatto che dovete seguire e quindi siete obbligati a fare così. Su Vibely sarete voi a scegliere il vostro percorso perché potrete scegliere l'insegnante che preferite, il genere musicale che preferite, l'argomento e potrete andare a vedere i video su quell'argomento che vi interessa, su qualsiasi cosa vi interessi, tutte le volte che volete per riuscire a spulciare qualsiasi minimo dettaglio. Oltre a questo ci saranno anche basi con e senza batterie scaricabili, ci saranno tutti i pdf con tutto quello che viene suonato all'interno della lezione e quindi voi avrete la possibilità di seguire la lezione e di imparare dall'insegnante nel modo migliore possibile. Chi saranno gli insegnanti? Perché questo è il punto focale, non ci sono solamente io a insegnarvi su Vibely ma ci saranno tantissimi professionisti che vi spiegano tutti i trucchi, tutti i segreti che hanno imparato in anni di tour in giro per l'Italia, in giro per il mondo, in anni di studio di registrazione, di dischi fatti, in anni di studio loro proprio. Quindi se andate sulla piattaforma adesso potrete già trovare nomi come ad esempio Phil Mer che oltre ad essere stato il mio maestro per un bel po' di anni è uno dei batteristi italiani più rinomati nel pop ma non solo. Ha suonato con Pino Daniele, ha suonato con Francesco Renga. Quindi è uno dei batteristi sicuramente più versatili che abbiamo in Italia. Oltre a lui c'è ad esempio Stefano Bagnoli per quanto riguarda tutto il mondo jazz. Oppure Daniel Fasano che ci spiega un sacco di cose sui linear, sulla sua concezione, sul suo fraseggio, su come pensa tutte queste cose e quindi ci spiega tutti i segreti di quello che ha imparato, come le ha imparati eccetera eccetera. Ci saranno anche Fabio Philkircher, Andrea Kirchhoff e tantissimi altri che col tempo si aggiungeranno al corpo insegnanti. Le serie disponibili fatte da questi insegnanti adesso sono già tantissime ma questa è una cosa che sarà in continuo aggiornamento per sempre. Ogni settimana riceverete qualcosa di nuovo, riceverete quattro serie aggiuntive tutti i mesi per ogni strumento. Avete capito bene per ogni strumento perché Vibely non è una realtà solamente di batteria. Questo è quello che rende Vibely unico. Il fatto di andare a poterti creare il tuo percorso tramite le serie o addirittura tramite le singole puntate che ti permetteranno di crescere ogni giorno e di creare il tuo stile unico. Facciamo un esempio. Io sono un batterista rock, un batterista funk. Cosa vado a cercare? Sicuramente andrò a cercare qualcosa inerente al rock, qualcosa inerente al funk ma la cosa veramente interessante è che essendoci così tanto materiale già adesso poi pian pianino ce ne sarà sempre di più possiamo lasciarci contaminare da tutto quello che vediamo all'interno di Vibely. Io ho appena finito di guardare la mia serie sul rock e Vibely mi propone anche di guardare il jazz da zero fatto da Stefano Bagnoli e io non ho mai suonato jazz però lì per lì dico forse potrebbe essere interessante e quindi vado a vedermi anche un'altra serie. Inserisco nel mio percorso anche quella parte di jazz magari questo è il primo passo per suonare jazz poi pian pianino andrò a vedermi anche le altre serie che usciranno sul jazz. Questa è la figata il potersi lasciar contaminare per crearsi il proprio percorso. Ora mi son messo qui alla scrivania per farvi capire bene come funziona e entriamo nel sito anche se prima vi voglio dire una cosa importante giusto per informarvi nelle prossime settimane usciranno anche le app di Vibely sia per iOS cioè per tutto il mondo Apple sia per Android in modo tale che voi possiate vedere tutte le lezioni che volete in qualsiasi post a qualsiasi ora e soprattutto ovunque perché voi quindi lo potrete vedere su computer su cellulare su tablet dove volete. Adesso direi che è arrivato veramente il momento di andare sul sito che è Vibely.tv c'è in descrizione tranquilli ve l'ho già detto ma non fa male ridirvelo. Entriamo su Vibely.tv e nel momento in cui entriamo sulla home possiamo vedere che ci sono due tipologie di colori il rosso e il blu. Vi ricordate prima che vi ho detto che le quattro serie al mese che escono su Vibely sono per ogni strumento c'è sia tutto il mondo di batteria sia tutto il mondo di chitarra. Blu batteria rosso chitarra. Detto questo però io mi concentrerò adesso sulla parte blu perché è batteria quindi direi che ci interessa un po' di più. Abbiamo delle serie suggerite tipo questa qua o questa qua o questa qua e noi possiamo andare anche a vedere già il trailer di questa serie perché almeno possiamo andare a vedere di cosa tratta la serie cosa succede all'interno della serie possiamo già farci un'idea se ci può interessare se fa il caso nostro oppure no. Nel momento in cui noi troviamo la serie che ci interessa ad esempio questa qua linear drumming made easy possiamo vedere che abbiamo accesso a tutte quante le puntate. Se noi vogliamo ad esempio partire dalla prima puntata ovviamente lo possiamo fare ma se noi vogliamo andare direttamente alla quarta puntata ad esempio partirà in automatico quindi ci sarà l'intro e poi ci sarà Daniel che parla e ci spiega tutto. Qui sotto alla puntata avremo anche le basi scaricabili e i pdf scaricabili e voglio soffermarmi un attimino sulla questione pdf perché nei pdf allegati praticamente a tutte le puntate è trascritto tutto quello che suonano all'interno delle puntate quindi sia che l'insegnante faccia un gru semplicissimo sia che l'insegnante faccia un esercizio sia che l'insegnante faccia un solo di batteria è tutto perfettamente trascritto. Come fate a sapere qual è l'esercizio giusto all'interno del pdf sopra ogni cosa che viene suonata dall'insegnante ci sarà scritto esercizio 1.1 1.2 se è relativo alla puntata numero 1 e così via. Oltre questo nel pdf ci sarà scritto all'inizio di ogni trascrizione il time code. Che cos'è il time code? Il minutaggio del video. Se voi state guardando un video e volete capire che cosa suona al minuto 3.34 andrete sul pdf e cercherete 3.34 e poi subito dopo tutta la trascrizione di quell'esercizio o quella cosa che sta suonando. Vi ricordo inoltre che tutti i video che vedrete sono girati in multicam con 3-4 camere per avere punti di vista differenti per poter riuscire a vedere tutto quindi imparare bene qualsiasi cosa nel minimo dettaglio. Un'altra figata di Viably è che potete anche lasciare i video a metà. State guardando un video ma a metà vi dovete interrompere dovete andare a fare qualcos'altro. Nel momento in cui voi tornerete sulla home di Viably avrete la sezione in cui vi dice continua a guardare questa cosa che stavi guardando. Quindi se voi ricliccate sulla stessa puntata ricomincerete a guardarla direttamente dal punto in cui siete arrivati la volta precedente. In più dato che vi continuo a dire cose in più dato che ci sono mille cose su questa piattaforma tutte le volte che uscirà una nuova serie oppure magari che uscirà una serie scadenzata di settimana in settimana riceverete la notifica così da non rischiare di perdervi nulla. E adesso la domanda che vi starete facendo è sì ok ma tutta questa roba quanto costa? Teoricamente l'abbonamento sarebbe solo per uno strumento quindi potete scegliere o solo chitarra o solo batteria ma per il lancio di Viably c'è un'offerta speciale cioè potrete avere tutto sia tutta la parte di batteria sia tutta la parte di chitarra quindi tutto quello che c'è su Viably a 9,99 euro al mese oppure potrete scegliere anche l'abbonamento annuale che viene 99 euro l'anno praticamente significa avere due mesi più di due mesi regalati. Questa offerta qua di cui vi ho appena parlato vale fino a dicembre 2021 quindi fino a dicembre 2021 potrete accedere a tutto quello che c'è su Viably al prezzo di cui vi ho parlato prima. Poi dopo dicembre 2021 potrete decidere se mantenere tutto il pacchetto con tutti gli strumenti se andare a vedere solo le serie relative al vostro strumento eccetera eccetera ma poi di questo ne parleremo tanto? C'è ancora un bel po' di tempo. Quindi ragazzi io sono veramente contento finalmente di avervi potuto svelare tutto perché ho fatto un sacco di esperienze bellissime. Sono andato a registrare batteristi di tutta Italia andando a sentire proprio quello che dicevano nella costruzione della serie della registrazione delle serie. Ho imparato tantissimo e sono contentissimo di questa uscita di Viably perché come me anche voi adesso potrete andare a scoprire tutti i segreti tutti gli aneddoti tutte le cose di questi batteristi pazzeschi. Quindi tutto quello che ho imparato io da loro lo potrete tranquillamente imparare anche voi. Qui sotto in descrizione troverete tutto quello che vi serve. Trovate il sito Viably.tv dove potete appunto andare a registrarvi fare tutte le cose che dovete fare. In descrizione troverete anche il link al profilo Instagram. È completamente diverso il profilo Instagram. Abbiamo deciso di non fare la copia del sito. Andate a seguire anche la pagina Instagram già che ci siete che così imparate qualcosa di nuovo. In tutto questo vi chiedo anche di lasciarmi un like qui sotto se questo video, se questo progetto, se tutte queste cose vi sono piaciute. Vi chiedo mi raccomando ragazzi qui sotto un commento. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto. Se vi piace, se vi piace l'idea, se vi piacciono gli insegnanti che ci sono all'interno. Perché è importante, perché dopo tanto lavoro è bello poter sapere che cosa ne pensa la gente di questo progetto. Io con questo direi che posso finirla veramente qua. E noi ci vediamo da adesso oltre che qui su suga Stube Drums anche suba oggi. Ciao!